Perù nel nord, l'Argentina e l'est, e questa è un'altra fortera lunghissima, penso di neanche più lunga che quella di Messico e degli Stati Uniti. Sì che nella sua storia ha avuto due guerre contro Perù e Bolivia nel secolo XIX, ma mentre contro l'Argentina siamo stati vicinissimi, un paio di relazioni, ma per fortuna non è mai successo. Adesso le relazioni sono più normali, come vedremo qui avanti c'è una collaborazione speciale, nonostante tanto nell'ambito economico, ma anche militare, come se vedremo nell'operazione di pace di IT. Qui potete vedere quanto lungo è il paese, anche più lungo che Schipi. A sinistra potevamo vedere queste due ragazze, è contente con il suo latte. Adesso ha un soldato canadese che sfortunatamente non è andato bene, lui ha perso la vita. Questo anno penso sia stato in gennaio, quando guidava la sua macchina. Quindi ancora non è un posto sicuro, ma si sta lavorando fortemente per farlo. Grazie.